Adesso stiamo sul palco a parlare Antonella Franchini, un'attivista di Castelfranco e prossimo sindaco di Castelfranco, primo sindaco donna della provincia di Modena. Ascoltiamo Antonella Franchini. Grazie, buonasera. Non li lasceremo più fare come ora, non potranno più agire con leggerezza, con disincanto e prendere decisioni che riguardano la comunità senza prima averle decise insieme. E sicuramente saranno sicuri che non esisteranno più scellerati pianicane, riavremo sicuramente il nostro ospedale perché ci batteremo fino in fondo per riaverlo e sicuramente non si maschereranno più dietro la scusa del welfare. Sicuramente dovranno vergognarsi e rispondere al loro operato. Sicuramente da domani i nostri parlamentari faranno questo già nelle sedie opportune, però tutto quanto è elencato non si avvererà se non ci darete una mano a supportarli. Noi abbiamo bisogno di tutto il vostro aiuto, della vostra voce e del vostro calore. Se vi interessa se qualcuno di Castelfranco seguiteci sul sito www.castelfranco5stelle.it e vi auguro un futuro proseguo. Ciao a tutti. Grazie. Ciao.